La proroga concessa dal governo nel decreto terremoto non risolve problemi per i tribunali abruzzesi. Il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Paola Pelino, a chiedere un impegno concreto al governo per salvare il turnover dei magistrati. Il Ministero della Giustizia è al lavoro per inserire i tribunali di Sulmona, Vezzano, Lanciano e Vasto nella tabella sulle piante organiche dei magistrati, dalla quale sono stati spiegabilmente esclusi con l'ultimo decreto ministeriale del dicembre 2016, armonizzando così provvedimento con le scelte che hanno prologato i termini della chiusura dei quattro presidi giudiziari, prima il 2018 e poi il 2020, rende noto la senatrice sulmonese che è precisa. Ho sollecitato questa mattina il sottosegretario Cosimo Ferri, raccogliendo anche il monito della Camera Penale di Sulmona, ottenendo la garanzia di un inserimento dei tribunali minori abruzzesi nella tabella per scongiurare lo stallo del turnover del personale. Continuerò a pressare il governo anche per quanto riguarda il personale amministrativo. Mi sorprende invece la distrazione mostrata dal sottosegretario Federica Chiavaroli, che mentre sbandierava il risultato della proroga, non si accorgeva della modifica che scudeva i tribunali dalle piante organiche dei magistrati Chiosapelino.